buonasera e bentornati nel mio canale questa sera prepareremo una cena super sfiziosa con meno di 5 euro ho qua un trancio di smeriglio che sarà costato meno di 2 euro una melanzana olio di oliva aglio e prezzemolo e spaghetti della barilla faremo una pasta veramente sfiziosa e soprattutto rimarremo in un budget molto piccolo questa cena è pensata per 4 persone grazie a tutti 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 grazie a tutti